La terza edizione della mostra d'arte Mulieribus, inaugurata il 5 marzo a Grottaglie, ha come sottotitolo Affinché l'oblio non prevalga, in memoria di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, due quindicenni scomparse in circostanze misteriose, entrambe nel 1983 e mai ritrovate. Emanuela, Emanuela era Emanuela, era la simpatia di tutti, buona, gentile, dove ti vedeva, ti abbracciava, abbraccia aperta, mi ricorreva, ci incorreva dietro. Mulieribus, voluta e ideata dal professor Ronzo Mastro, è la collettiva ospitata nella bottega Mastro della città della ceramica, presentata dalla professoressa Vincenza Musardo Talò, storico e critico d'arte. Ogni anno cerchiamo di dare un titolo alla mostra, anche se comunque è sempre il filo conduttore e l'universo donna, con le sue problematiche, con le sue gioie, con i suoi dolori. Si rivisita quella che è la condizione e la visione della donna nella nostra società. L'iniziativa felicissima è dovuta al professor Mastro, che mostra una sensibilità veramente forte e nei confronti della sua piccola patria, e nei confronti dei temi dell'arte. Mettere insieme, fare questo connubio di artisti, tra l'altro artisti che vengono dal nord, oltre che quelli della nostra terra, è un'occasione di incontro e di confronto veramente grande. 50 gli artisti provenienti da tutta Italia, che espongono i loro lavori, suddivisi fra opere pittoriche, fotografiche, scultore e ceramiche. Mulieribus, visitabile dalle 18 alle 21, resterà aperta al pubblico fino a domenica 20 marzo. E martedì 22 marzo sarà ancora possibile visitarla in occasione dell'incontro letterario organizzato nella bottega Mastro. Una lettura a più voci, che racconterà le vite segrete di alcuni grandi artisti. Durante la serata del 22 marzo, la BCC di San Marzano di San Giuseppe, il Rotary Club di Grottaglie, Giuseppe Quaranta e il settimanale Livu Week, assegneranno agli artisti in mostra prescelti alcune targhe di riconoscimento per le opere esposte.